Buongiorno della redazione di Foles Multimedia, in studio Cesare Martignan. In A1 tra Calenzano e il BV A1 variante di Valico in direzione Bologna, rallentamenti dovuti al traffico intenso. In A12 in direzione Rosignano, presso il casello di Rosignano, si registrano code per traffico intenso. In FIPD per lavori tra Ginestra Fiorentina e la Stassigna, nell'arco della giornata possibili rallentamenti con tendenza all'aumento in entrambe le direzioni. A Firenze, fino al 15 settembre, in Viale Don Minzoni, restringimenti di carreggiata e di vieti di transito. Si ricorda che per lavori di puliacqua, dal 9 agosto, i viali di circonvalazione tra la Fortezza D'Abasso e i viali Matteotti saranno interessati da provvedimenti alla circolazione. Si ricorda inoltre che prosegue la messa in sicurezza del viadotto Marco Polo a partire dal lunedì 9 agosto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Altre informazioni sui nostri canali social. Buon viaggio! Grazie a tutti!